Diren sche� Revisore Rojas Bene. Mi trattengo ancora due minuti per salutarvi e per augurarvi buona cena. Oggi è stata una giornata, dal mio punto di vista, estremamente interessante. Siamo partiti con la… Pronto? Siete? Perfetto. Siamo partiti con la sessione istituzionale dove sono stati presenti alcuni attori delle istituzioni che ci hanno portato delle innovazioni, ma soprattutto ci hanno portato un bello spirito collaborativo. Abbiamo visto che le istituzioni stanno lavorando per, non è che stanno lavorando contro, molto spesso le istituzioni si percepiscono come il vero ostacolo alla crescita, come quelli che frenano, mentre invece oggi abbiamo avuto una spinta verso l'universo gli altri, cioè lavoriamo insieme, vediamo se troviamo la soluzione. Questo mi ha confortato nel secondo panel, Banca d'Italia, che ha detto va bene, sospendiamo per un attimo la regolamentazione, vediamo se riusciamo a fare davvero qualcosa insieme. Il secondo panel al di là di questo mi è anche un po' spaventato. Abbiamo visto che i confini della tecnologia sono cose abbastanza sconosciute, ma non soltanto della tecnologia, anche della conoscenza della persona, anche della spiegazione di mettere la persona al centro, che non è proprio così. La persona, come diceva Walter, è sempre stata al centro, siamo noi il centro. Però noi prendiamo degli assunti, dei punti di vista che non sempre sono corretti, sono punti di vista un po' strani, un po' particolari, viziati da preconcetti, pregiudizi, nostri modi di pensare, nostri modi di vedere e probabilmente si ascolta poco. O si ascolta con un concetto di sì, ma tanto io lo so già, sì, ma tanto io ho capito. Sì, la tecnologia, ma poi quando si va dal cliente lo vedo io. Ecco, io trovo che siamo in un momento, Walter magari mi castigherà dopo, non lo vedo qui perché ho la luce negli occhi, ma siamo in un momento in cui non riesce ancora a distinguere quanto lavora l'uomo e quanto lavora la macchina. La potenzialità del, bello, machine learning, l'intelligenza artificiale, le blockchain, diciamo, gli smart contract. Ho sentito un sacco di parole nuove e veramente come la persona li può utilizzare. E' stato comunque molto interessante, molto stimolante, più che darmi delle soluzioni, mi ha fatto venire molti altri dubbi. Quando mi vengono dubbi vuol dire che sto imparando qualche cosa e sto crescendo. Spero e penso, sono sicuro anche domani andremo avanti su questo livello e capiremo ancora di più. Signori, vi auguro buona cena e grazie per essere qui.